Bruno Barbieri, lo chef di medicina ha il cuore spezzato. La scomparsa prematura lo ha sconvolto. Certamente, se solo nominiamo il nome di Bruno Barbieri, sappiamo di chi stiamo parlando. Siamo infatti innanzi non solo a un immenso professionista del settore food, ma anche a un personaggio tv e mediatico a tutto tondo, molto apprezzato dagli italiani di ogni età. Seguitissimo sui social, in particolare su Instagram, regala tante chicche culinari ai suoi numerosissimi followers. Tra le tante passioni di Bruno c'è anche quella della moda. Il suo stile è elegante e impeccabile, non solo quando deve apparire in tv, ma anche nella sua vita privata, oltre che quando è impegnato ai fornelli. Numerosissime le pubblicazioni di suoi libri culinari, diventati, in men che non si dica, grandi successi editoriali. Da qualche anno a questa parte, è anche diventato conduttore televisivo. Lo troviamo saldamente al timone di quattro hotel, che, similmente a quattro ristoranti di Alessandro Borghese, in ogni puntata vede sfidarsi quattro albergatori. Il migliore vince un cospicuo assegno da investire in lavori per la sua attività, al fine di migliorarla. Tuttavia, il ruolo per cui è maggiormente conosciuto, è quello di giudice del cooking show più amato dagli italiani, ovvero MasterChef Italia. Nonostante sia un personaggio molto famoso, è anche molto riservato. Per lui la sua vita privata tale deve sempre rimanere. Ad ogni modo, ha dichiarato, nel corso delle numerose interviste, di non essere mai riuscito ad avere importanti relazioni sentimentali. Bruno Barbieri e il suo accorato messaggio, al momento è ancora single. E, nel suo raro tempo libero, adora dedicarsi ai viaggi e alla lettura, oltre che ai suoi affetti più cari. Fra di essi figura la sua mamma, con la quale possiede uno speciale rapporto. A lei ha anche dedicato un accorato post nel giorno della sua festa, invitando tutti i suoi followers a festeggiare le madri come si deve. Ora lui però non li ha emozionati con parole dolcissime, nei confronti della sua genitrice, ma ha spezzato in mille pezzi i loro cuori con ben altri pensieri. E' infatti scomparsa una persona per lui speciale, quando ancora era nel pieno della sua vita. E lui ne ha voluto parlare attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Ci mancherai, le parole dello chef. In realtà si tratta di un post a Marcord, di due anni fa circa, riservato alla dipartita da questo mondo di Sinisa Mijailovic, ex allenatore del Bologna e grandissimo calciatore. Il professionista è scomparso il 16 dicembre 2022, a seguito di una lunga malattia, che non gli ha dato tregua. Poco dopo però lo ha colpito un nuovo lutto, ovvero di quello relativo alla stilista Vivienne Westwood. Se ne è andata la più grande rivoluzionaria della moda, Vivienne Westwood, una vera punk. Ci mancherai, queste le parole scritte da Bruno per lei. Lui che l'ha sempre stimata, ha voluto farle questo piccolo omaggio, condividendo anche un bello scatto della professionista, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda, di stampo mondiale.